Siamo qui con Manuel Turrini al termine della partita con Cesena, la seconda giornata di campionato. 3-0 il risultato in favore di Clay, insomma complimenti per questa partita e per come l'hai preparata. Cesena è una squadra che conosciamo molto bene, abbiamo incominciato da subito all'inizio settimana a lavorare per giocare contro di loro e le ragazze sono state bravissime, hanno interpretato la partita nel modo giusto, facendo esattamente le cose che ci eravamo detti durante la settimana, le cose che avevamo provato e sono state molto coraggiosi nei momenti giusti, per cui davvero penso che sia stata un'ottima partita. Tu hai professato calma e concentrazione per tutta quanta la partita e insomma per essere stata proprio un po' questa la chiave di lettura di questa partita, cioè anche se molto avanti nel punteggio siamo sempre stati molto concentrati con i piedi per terra e pronti a un rientro di Cesena. Cesena è una squadra che ti aspetta al Varco, nel senso che loro sono lì ad aspettare un minimo calo di tensione e subito ti saltano sul collo. Di fatti appena c'è calata un po' la tensione loro hanno recuperato tutte le volte quei 3-4 punti in un attimo. Sono una squadra molto determinata e lo sapevamo ed è per quello che se noi avessimo avuto la pazienza e la lucidità di portare avanti il nostro gioco non avremmo avuto problemi. E di fatti è andato così. Le ragazze sono rimaste lucide, hanno superato i momenti di difficoltà, hanno avuto la capacità di rimanere concentrate ed è andata bene. Proprio nell'ultimo set, nel terzo set c'è stato il rientro che poteva forse fare più paura di Cesena ma ci sono stati un paio di azioni di Ilaria Bughignoli che sia prima da posto 4 che da posto 2 hanno veramente tolto le castagne dal fuoco in un momento molto pericoloso. Bughi ha fatto una partita molto concreta e è stata molto attenta, ha gestito benissimo le situazioni in cui poteva solamente dar fastidio, nelle situazioni in cui aveva il vincente nel braccio e di fatti ha fatto uno score molto molto pulito. Il primo errore l'ha fatto a metà del terzo set mi sembra e ha battuto molto bene, ha tenuto bene in ricezione, quindi assolutamente Bughi ha fatto un'ottima partita. Penso che ci siano state anche altre notte molto molto positive come il ritorno ai suoi livelli di Rizzo che la settimana scorsa era andata un pochino meno ma oggi la fast è stata davvero il nostro punto di riferimento. Cesena è una squadra che batte molto forte ma ha sistemato un po' il primo set e dopo ci hanno messo meno in difficoltà. siamo riusciti a tenere sempre e quello per noi è fondamentale. Per cui sono contento, le ragazze hanno fatto una bella partita e tante di loro hanno superato decisamente alcuni limiti che ci avevano messo in difficoltà il mese scorso. La prossima giornata siamo in casa con Castelbellino che ha fatto un ottimo risultato in casa con Cesena che abbiamo già commentato ma insomma dici un po' di cosa. Loro sono una squadra costruita per vincere e hanno giocatrici esperti che hanno già partecipato e vinto a diversi campionati di B1 quindi parliamo di una realtà completamente diversa dalla nostra. Adesso vediamo questa settimana, non so ancora il risultato della partita che hanno giocato ma penso che non ci sarà molta storia. Ecco, loro sono la squadra più forte del girone. Noi vediamo, noi ci proveremo. Inizio da domani, inizio a guardarci, inizio a darci un'occhiata e vediamo da che parte provare a dargli fastidio. Però sarà una di quelle partite dove è un po' diversa da questa. Ce la giocheremo molto sfrontate, dovremo prenderci un po' di rischi, cambiare un po' il gioco rispetto a queste due partite.